Ciao amici di Gorizia TV, ecco qua il fiume Isonzo, zona pescatorica, roba di Gorizia TV, sono andato io a un posto veramente imperdio, una roba vedrete adesso con il servizio, guardate qui. Cari amici sono qua in via Argentina e vado giù in questa strada a vedere come è l'Isonzo, speriamo che col mio faro potente non vado giù dall'acqua, chissà, intanto andiamo giù, vediamo qua com'è la situazione, eccolo qua, intanto vai, così andiamo vicino dove c'è il Johnson, perché sono già venuto a filmare tanti, 30 anni fa, probabilmente vengono giù i pescatori di qua, vediamo un po' adesso, vediamo vediamo sempre con la luce, vediamo un po', eccolo, vediamo come è la situazione qua, qua c'è tanto verde, senza pila caro mio qua ti attacchi al tram ragazzi, vediamo vediamo dove siamo, mi sembra di vedere già l'acqua, forse, vediamo, eccola, andiamo lentamente che non ci sbagliamo qua, che non è finita l'acqua, ecco vedo l'acqua, vedo l'acqua, però intanto guardiamo qua che non vado a fare qualche volo, attenzione, aspetta, aspetta, mamma mia ragazzi, vediamo dove si può andare qua, qua non si può, qua non si può, allora vado di qua, vediamo qua, 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 là c'è il ponte, vediamo, là c'è il ponte, eccolo, vediamo un po', facciamo un po' di attenzione, c'è sabbia qua, qua si può venire, ah l'acqua arriva fino qua ragazzi, guardatela qua, ecco l'acqua, l'acqua arriva fino qua, allora adesso io spengo il faro, spengo il faro, ed ecco qua, questo è il risonzo, però io accenderei di nuovo il faro perché non si sa mai che non si ha qualche buco qua, vediamo un po', eccolo qua, sai che non vado giù casomai, no? Però l'acqua arriva fino qua, eccola lì, eccola lì, uh, uh, guarda, guarda, è l'acqua qua, mamma mia, uh, vado a finire anche dentro ragazzi, uh, si va giù qua, allora, filmo da qua, perché sento che qualcosa va giù, alla fine, qua c'è un alberone di quelli grossi, l'acqua arriva fino qua, guardate l'acqua dove che arriva, qua, arriva fino lì l'acqua, vedete? Lì sprofonda, non so perché sprofonda, lì, ed ecco qua, questo è il risonzo, aspetta vediamo qua, se arrivo a andare di qua, c'è pieno di pantano, comunque un po' di pazienza, dai, allora facciamo così, l'acqua è molto alta, filmo da qua perché non riesco ad andare più in là perché sennò si sprofonda, ah, è questo il risonzo, cari amici, chiudo qua, proprio viene l'acqua qua, guardate che roba, ah, guarda, guarda, senti proprio l'acqua che fa, ah, guarda, guarda, senti proprio fino a qua, boh, faccio pausa, c'è il treno, ma non riesco a beccarlo bene perché non riesco ad andare più in là, c'è il treno, ho trovato un'altra via ma è veramente pieno, l'acqua è veramente alta, non si può andare fino a lì, niente, e boh, va bene, comunque così è, adesso torneremo su, avete visto che zona, una zona veramente impervia, bene, ci vediamo, iscrivetevi su YouTube